Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno. La domanda, la domanda di questa sera è, sono con noi, gli altri, sì o no? Cioè che domanda fa? Che fa la domanda lui? Allora il tema non l'ho deciso, non l'ho deciso, non l'ho deciso, non l'ho deciso. Il problema è che ogni giorno abbiamo una, una lazzometra, se tutti parlano di quello che vogliono... Il problema sarebbe, non lo sapete, 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 non lo sapete. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce, non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web, in diretta con le webcam, e ci battiamo per le fonti rinnovate.